ciao ragazze bentornati sul mio canale il video di oggi il video recensione della mascara della nabla cosmetics le film noir eccolo qua quando lo acquistate lo trovate dentro questa custodia con l'apertura fatta così e appunto all'interno troviamo il mascara è un mascara biologico quindi con ingredienti naturali questo è l'inci se riuscite a vederlo magari stoppate così lo leggete adesso ve lo apro e ve lo faccio vedere allora lo scolino ha questa punta un po più cicciotta verso l'interno e termina più sottile come appunto un alberello e mi ricorda molto lo scolino del mascara miss manga soltanto che questo è al bastoncino rigido e non flessibile come il miss manga come vedete in quest'occhio ho fatto un applicazione allora si promette un mascara volumizzante allora volumizza ma le allunga anche come potete vedere adesso andiamo a fare l'altra passata insieme così vediamo un po come si comporta allora le pettina molto bene ovviamente questo è grazie alla forma dello scolino e le allunga anche parecchio e vedendo delle recensioni in giro ho visto che molti ragazzi si riscontrano più appunto un effetto lunghezza più che un effetto volume comunque allora a me piace come effetto vedete c'è ben visibile adesso aspetto un attimo poi andiamo un pochino a modificare perché vedete non è proprio identico all'altro occhio comunque insomma vedendo la recensione di Lolla Mr. Barry Fields sono cioè mi sono innamorata di questo mascara e infatti il giorno stesso sono andata a comprarlo che appunto ieri e devo dire che allora il costo come se non mi ricordo se ve l'ho già detto è di 11,50 euro che l'ho preso in bio perfumeria quindi nel sito della NABRA non so quanto costi sinceramente quindi allora per essere un mascara bio ha un bellissimo effetto ed è il primo mascara bio che provo e non decise se prendere questo o quello della suo bio però ho detto vabbè prendiamo questo comunque è la novità del momento così lo proviamo e devo dire che è davvero molto carino ecco se lo ripassiamo un attimo facciamo ecco anche quelle inferiori allora ecco qua il risultato io spero che abbiate trovato interessante questa recensione quindi se avete intenzione di comprare il film noir io ve lo consiglio e niente ragazzi ci vediamo al prossimo video vi mando un bacio ciao